good morning qui sono le 11 e due minuti certo non proprio mattina prestissima comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david inch it's february 14 2022 and it's a monday here in naples a cloudy morning anzi a rainy morning sta piovendo it's raining and with a soft wind 57 and 2 farin at around 14 celsius and this means that for me non è quella giornata veramente 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 fredda con questi giorni in questo periodo e come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto ovviamente a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché impossibile come ripeto sempre ma quantomeno di combatterlo il freddo per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre lo faccio separato da questo quindi occhio se vi interessa po 글 bambi assolutamente oggi non abbiamo questi quei blu skies e golden sunshine come ho anticipato all'inizio totale claude sta anche piovendo come avete visto lei avete visto tutti Che dire in questi casi nulla perché non possono cambiare le cose Ma a questo punto speriamo per una giornata migliore domani Quindi this afternoon it'll be going up to I think qualche grado in meno Ma potrebbe anche rimanere stabile su questi 57 Fahrenheit e 14 Celsius Se non credo che we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine come ho già detto Said this, so from the mythical window would carry the curtain Purtroppo inquadratura rende più bella ma comunque brutta per il tempo appunto And this green roller shooter And finally from a mythical keyboard Yamada GX 640 IPG 625 Have a great day in all the people who follow the channel and the reports Sì un saluto davanti a tutti Un saluto particolare, il 25esimo iscritto che non so chi è Ma comunque lo ringrazio Adesso dopo scoprirò il no, vediamo un po' Of ever again Have a great day in all these people and everyone too